Ciao ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial. Oggi sicuramente un tutorial molto importante perché vi faccio vedere come dovete andare a caricare le immagini all'interno del vostro sito WordPress. E naturalmente prima di farvi vedere i passaggi che vi permettono appunto di ottimizzare meglio le immagini da caricare all'interno del vostro sito, vi spiego ovviamente come non dovete andare a caricare le immagini all'interno del vostro sito web. Ovviamente ragazzi se questa è la prima volta che vedete uno dei miei tutorial, io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di Assistenza al WordPress, ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e gestirsi il proprio sito web utilizzando appunto WordPress. Ovviamente ragazzi lavorando da tanti anni con clienti ogni singolo giorno abbiamo avuto modo di lavorare su davvero tanti progetti online e quindi ovviamente abbiamo maturato molta esperienza anche per quanto riguarda l'andare ad ottimizzare i siti WordPress per quanto riguarda la velocità. E sono sicuro che già lo sapete, le immagini sono praticamente tra i motivi principali per la quale i siti web sono lenti nel caricamento. Quindi sono sicuro che questo tutorial lo troverete di grande grande aiuto. Dopo questa introduzione direi di passare subito nel vivo di questo video, quindi passiamo sul mio pc, che vi vado a spiegare come non dovete andare a caricare le immagini all'interno del sito, ma poi vi faccio vedere insomma i migliori metodi che potete utilizzare per caricare le immagini all'interno del sito in modo tale che il vostro sito risulti essere veloce nel caricamento. Quindi passiamo subito alla parte pratica del video. Bene ragazzi, allora questo qui è il sito WordPress di prova che andrò ad utilizzare per farvi vedere come andremo ad ottimizzare insomma il sito web per quanto riguarda il caricamento delle immagini. Quindi innanzitutto la prima cosa che dovete fare naturalmente è quella di andare a testare la velocità del vostro sito. In questo modo gli strumenti che vi faccio vedere a breve all'interno di questo video vi faranno vedere praticamente quali sono le immagini che dovete andare ad ottimizzare. Ora, i migliori strumenti per andare a vedere quanto veloce si carica il vostro sito web, noi di solito consigliamo il sito gtmetrics.com e il sito tools.pingdom.com. Ad ogni modo ragazzi trovate il link di questi due servizi completamente gratuiti qui sotto in descrizione. Ora, il sito di prova che vi dicevo è questo qui. Vi faccio vedere brevemente l'home page che praticamente ho importato tramite un plugin che adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere anche il back end del sito ovvero l'installazione di WordPress. Quindi se vado su aspetto temi, praticamente all'interno di questo sito web ho installato il tema Astra e se andiamo su plugin vedete che praticamente ho attivi solo il plugin Elementor, Start Templates che lo posso anche andare a disattivare perché è il plugin che ho utilizzato per importarmi praticamente questo sito demo, adesso non mi serve più. E praticamente ho attivo un plugin della cache e un plugin per quanto riguarda la creazione di moduli di contatto. Ho attivato questo plugin della cache perché naturalmente vi volevo dire che se volete andare ad ottimizzare al massimo il vostro sito web naturalmente se state facendo uno speed test volete fare in modo di vedere proprio la velocità base del vostro sito quindi senza la generazione della cache. Quindi se avete attivo attualmente un plugin della cache sul vostro sito mi raccomando andate innanzitutto ad eliminare completamente la cache e poi andate a disattivare il plugin che state utilizzando sul sito. In questo modo ancora riuscirete a vedere la velocità reale del vostro sito senza la cache. Poi naturalmente quando andrete ad ottimizzare il vostro sito ovviamente andrete a riattivare la cache perché in questo modo andrete a velocizzare ulteriormente il caricamento delle pagine del vostro sito. Ad ogni modo adesso ricarico un attimo l'home page giusto per farvi vedere che l'home page insomma si visualizza perfettamente senza nessun problema. Ora non faccio altro che andare a copiarmi l'indirizzo della pagina che voglio andare a testare e praticamente lo vado ad incollare su gtmetrics. Ora molto importante ragazzi andate a registrarvi un account completamente gratuito su gtmetrics.com ancora trovate il link in descrizione. Come vedete adesso io sono logato con il mio account completamente gratuito. Vi serve un account perché qui sulle opzioni del test praticamente dovete andare a selezionare un server che sia il più vicino possibile rispetto al server dove è situato il vostro sito. Nel mio caso sto utilizzando i nostri server di assistenza WP che tra parentesi se siete interessati magari vi lascio il link relativo ai nostri servizi di hosting qui sotto in descrizione. Ad ogni modo i nostri server sono situati in Italia e quindi qui andrò a selezionare un server che sia il più vicino possibile rispetto all'Italia. Quindi nel nostro caso andiamo a selezionare Londra e poi qui andiamo praticamente ad analizzare il nostro sito. E facciamo la stessa cosa anche per quanto riguarda lo strumento tools.pingdom.com Quindi andiamo ad incollarci praticamente l'indirizzo della pagina che vogliamo andare a testare e anche qui come server andiamo a selezionare Londra. In questo modo andiamo ad utilizzare praticamente la stessa località sia su gtmetrics.com che su Pingdom. E naturalmente facciamo partire il nostro test. Arrivati a questo punto vi consiglio di partire con lo strumento gtmetrics.com Come vedete come punteggio insomma siamo abbastanza alti senza andare ad attivare la cache all'interno del nostro sito. Ad ogni modo quello che dovete fare è andare a cliccare sulla sezione waterfall e praticamente qui come vedete ci sono dei filtri. Di default è selezionato il filtro tutto. Quindi praticamente gtmetrics vi fa vedere tutti i file che vengono caricati quando qualcuno visita la pagina che avete inserito ovviamente sulla barra di ricerca. Quindi praticamente la pagina che state testando. E queste qua sono tutte le richieste che stiamo effettuando al server dove è situato il nostro sito. Ora questo video è specifico per quanto riguarda l'ottimizzazione delle immagini quindi vi consiglio di andare a filtrare per immagini cliccando qui su images e adesso come vedete praticamente qui vi consiglio di andare a cliccare su size. In questo modo potete andare a filtrare per quanto riguarda la dimensione delle immagini. Ora vi faccio notare che praticamente ho queste due immagini che ho caricato insomma appositamente per registrare questo tutorial vedete che questa immagine qui praticamente pesa 675 KB che praticamente è una dimensione molto grande per un'immagine insomma da andare a caricare all'interno di un sito web. Ora se vado a cliccare su questa più quindi qui sulla sinistra potete andare a cliccare sul tab IMG e praticamente qui adesso gtmetrics.com vi fa vedere esattamente l'immagine quindi questa qui è praticamente l'immagine che pesa 675 KB. Naturalmente sulla sezione headers qui vi da ulteriori informazioni per quanto riguarda le immagini e praticamente potete anche vedere l'indirizzo proprio dell'immagine. Andiamo a vedere anche la seconda immagine quindi questa seconda immagine andiamo a cliccare sulla più e anche questa volta andiamo a vedere l'immagine effettiva. Bene adesso praticamente che abbiamo visto che queste due immagini sono molto pesanti e quindi vanno a rallentare il nostro sito web praticamente torniamo sulla pagina che stiamo testando e andiamo a trovare le nostre immagini. Ad esempio c'è questa immagine qui che sarebbe la prima come abbiamo detto e poi se scrollo la pagina ecco qua che troviamo la nostra seconda immagine. Ora come vedete questa immagine si vede abbastanza in piccolo all'interno di questa pagina perché voglio che venga visualizzata in questo modo tuttavia non ha assolutamente senso che questa immagine pesi oltre mezzo megabyte. Quindi torniamo qui su gtmetrics e come vedete praticamente l'immagine è questa qui. Ora se torniamo sulla nostra pagina vi spiego praticamente un trucchetto facciamo tasto destro con il mouse sull'immagine che vogliamo magari andare a modificare e facciamo ispeziona. Poi spostate il mouse praticamente dove viene selezionata di default l'immagine all'interno del codice e spostate il mouse proprio sull'indirizzo dell'immagine. E come vedete appare questo pop up che vi dice che praticamente la dimensione reale dell'immagine è 1920x1080 pixel tuttavia l'immagine che viene visualizzata proprio all'interno della pagina è di 283x336 pixel. Quindi perché sono andato a caricare un'immagine di all'incirca 2000 pixel se poi l'immagine viene visualizzata a 300 pixel? E beh ovviamente non ha nessun senso giusto? Infatti diciamo che in linea generale bisogna andare a caricare un'immagine che sia più o meno di dimensione doppia rispetto all'immagine o meglio alla risoluzione effettiva con cui verrà inserita all'interno della nostra pagina. Quindi ad esempio in questo caso l'immagine come vedete viene visualizzata all'incirca su 300 pixel quindi in questo caso dobbiamo andare a caricare un'immagine che sia all'incirca di 500 pixel 500 o 600 pixel insomma ragazzi non ha poi tantissima importanza ragazzi andrete a vedere poi voi lato front end se l'immagine insomma si visualizza correttamente oppure se si visualizza sgranata ovviamente se l'immagine risulta sgranata andrete ad aumentare leggermente la risoluzione dell'immagine quindi quello che vi consiglio di fare io è semplicemente di andare a cliccare praticamente su questo url in questo modo vedete l'immagine proprio sul vostro browser e ve la andate a scaricare quindi tasto destro e poi potete andare a cliccare su salva immagine e lo stesso lavoro naturalmente lo facciamo anche per quanto riguarda la seconda immagine che vogliamo andare ad ottimizzare quindi l'immagine era questa qui tasto destro ispeziona quindi molto velocemente spostiamo il mouse su questo url andiamo a cliccare sul link ecco qua la nostra immagine tasto destro salva immagine il prossimo passaggio naturalmente è quello di andare a cambiare la risoluzione dell'immagine che poi andremo a ricaricare all'interno della nostra pagina per fare questo adesso io utilizzo un programma per modificare appunto l'immagine nel mio caso questo software si chiama GIMP ma voi naturalmente potete andare ad utilizzare i software che preferite come ad esempio Photoshop adesso vado semplicemente ad aprire la mia immagine quindi file e vado ad aprire l'immagine che io voglio andare ad ottimizzare e ora che l'immagine è stata aperta all'interno del software nel mio caso vado qui su immagine e andiamo a cambiare praticamente la dimensione Canva quindi vado qui ridimensione Canvas e praticamente vado a raggruppare sia l'altezza che la larghezza e praticamente come larghezza gli vado a dare 500 pixel in questo caso adesso se vado su ridimensiona come potete vedere adesso l'immagine viene ridimensionata in questo modo nel mio caso ovviamente vado ad inserire l'immagine all'interno del riquadro quindi in questo modo ovviamente ragazzi questo passaggio diciamo che varia in base al software che è stato utilizzando per andare a ridimensionare l'immagine ora che l'immagine è stata ridimensionata naturalmente ce l'andiamo ad esportare quindi semplicemente file e poi vado su esporta quindi esporta come e qui naturalmente andate a salvare l'immagine dove preferite all'interno del vostro pc bene ora che abbiamo salvato le nostre immagini sul pc la dobbiamo andare ad ottimizzare ulteriormente per andarla a visualizzare insomma sui browser per fare questo vi consiglio di andare praticamente sul sito web che si chiama Tiny PNG per fare questo vi consiglio di andare all'interno del sito tinypng.com vi lascio il link di questo fantastico sito web qui sotto in descrizione perché questo strumento in modo completamente gratuito vi permette di andare ad ottimizzare le immagini del vostro sito ora per andare ad ottimizzare la vostra immagine semplicemente andate a cliccare su questo riquadro e andate a caricare la vostra immagine come vedete io ho caricato praticamente la mia immagine ottimizzata tuttavia all'inizio pesava come vedete 82 kilobyte e lo strumento ce l'ha ottimizzato ulteriormente e adesso l'immagine pesa 66 kilobyte mi raccomando di andare a salvare l'immagine ottimizzata da questo strumento sempre sul vostro pc che adesso insomma la andiamo anche a caricare all'interno del nostro sito quindi adesso torniamo praticamente sulla pagina e la andiamo a modificare con il nostro editor visuale nel mio caso sto utilizzando Elementor quindi andiamo ad aprire l'editor visuale di Elementor e naturalmente mi vado a sostituire la mia immagine che ovviamente abbiamo ottimizzata al massimo perché come avete visto da 650 kilobyte l'immagine è stata ottimizzata a circa 65 quindi andiamo a trovare la nostra immagine nel mio caso è questa qui quindi la vado a selezionare vado a cliccare qui e andiamo praticamente a caricare la nostra immagine quindi carica file seleziono i file vado quindi a caricare l'immagine ottimizzata e come vedete l'immagine pesa 64 kilobyte qui potete vedere anche la risoluzione dell'immagine andiamo ad inserire l'immagine all'interno della nostra pagina e praticamente qui come dimensione dell'immagine andiamo a selezionare immagine piena perfetto come vedete l'immagine è stata inserita o meglio è stata sostituita e adesso andiamo ad aggiornare la nostra pagina cliccando su questo pulsante oppure insomma andate a salvare la vostra pagina utilizzando il vostro editor visuale ora se vado a visitare l'home page del nostro sito quindi andiamo proprio sull'home page del nostro sito web e vado a scorrere la pagina potete vedere che comunque l'immagine non si visualizza in modo sgranato e quindi adesso se facciamo tasto destro e andiamo a fare ispezione spostiamo sempre il mouse qui sotto come vedete l'immagine è di 500x281 ma viene visualizzata all'interno del sito a 283x336 quindi praticamente una risoluzione doppia rispetto alla risoluzione che viene visualizzata all'interno della pagina infatti come vedete l'immagine a mio parere insomma non risulta sgranata comunque vi basta semplicemente andare a ridimensionare la vostra immagine magari a 600 pixel al posto di 500 quindi questo è come potete andare ad ottimizzare da varo al massimo le immagini che andate a caricare all'interno delle pagine del vostro sito ancora molto velocemente ad esempio vi faccio vedere questa immagine se faccio tasto destro con il mouse e andiamo su ispeziona spostiamo sempre il mouse su questo indirizzo varo l'indirizzo dell'immagine anche in questo caso ovviamente andate a scaricarvi la vostra immagine la andate poi a ridimensionare ad esempio in questo caso come vedete viene visualizzata all'interno del nostro sito a 343 pixel per 463 ovviamente se volete andare ad ottimizzare al massimo la dimensione di questa immagine al posto di 1920 come larghezza andate ad inserire una larghezza di 700 pixel ovvero il doppio rispetto alla risoluzione che viene visualizzata proprio all'interno della pagina spero insomma di essermi spiegato ovviamente dopo che avete ridimensionato la vostra immagine mi raccomando andate sempre a caricare sul sito tinypng.com il servizio è completamente gratuito andate a scaricarvi la vostra immagine e poi naturalmente tornate sul vostro sito web e andate a sostituirvi la vostra immagine con l'immagine che avete ottimizzato ovviamente una volta che avete ottimizzato tutte le immagini della pagina che volete andare ad ottimizzare tornerete ancora su gtmetrics.com e andrete ad effettuare un altro test quindi adesso facciamo un altro test che andiamo a vedere proprio in tempo reale diciamo che la dimensione dell'immagine sicuramente è stata sostituita con l'immagine che abbiamo appena caricato ovviamente poi potete fare la stessa cosa anche per quanto riguarda lo strumento tools.pingdom.com praticamente sono strumenti molto simili ma comunque è sempre meglio andare a comparare due strumenti al posto di uno singolo giusto? quindi adesso attendiamo brevemente che il sito finisca di scannerizzare il nostro sito web o meglio la nostra pagina torniamo qui su waterfall andiamo a riordinare le immagini per dimensione e come vedete la prima è l'immagine che io non ho ottimizzato ma che bisogna ovviamente andare ad ottimizzare quindi questa immagine qui e l'immagine invece che abbiamo ottimizzato è questa qui ok? quindi adesso se la andiamo a vedere ecco qua la nostra immagine se andiamo praticamente qui su header come potete vedere la dimensione di questa immagine adesso è di circa 65 KB e ovviamente anche il tempo di caricamento ovviamente andrà ad incidere per quanto riguarda il caricamento delle immagini e della pagina del vostro sito web quindi mi raccomando ragazzi andate ad ottimizzare davvero al massimo tutte le immagini che avete inserito all'interno delle pagine principali del vostro sito questo perché se avete appunto tante immagini che pesano mezzo megabyte o più ovviamente la vostra pagina andrà a pesare diversi megabyte e quindi se ad esempio un vostro visitatore visita la pagina tramite smartphone e magari anche tramite una connessione lenta ovviamente per andare a caricare una pagina che pesa diversi megabyte il visitatore dovrà aspettare parecchi secondi prima che effettivamente insomma tutta la pagina si carichi in modo completo mi raccomando che anche per quanto riguarda insomma comunque la SEO quindi il posizionamento del vostro sito web sul motore di ricerca è molto importante avere un sito web che si carichi sempre molto velocemente con il passare del tempo quindi mi raccomando tenete sempre aggiornate le vostre pagine e mi raccomando andate sempre ad ottimizzare le pagine per quanto riguarda la velocità ovviamente una volta che avete finito di andare ad ottimizzare tutte le pagine del vostro sito ovviamente potete tornare qui sulla sezione dei plugin e andare a riattivare i plugin che andate ad utilizzare per gestire la cache del vostro sito se non state utilizzando un plugin per quanto riguarda la cache del sito mi raccomando andate ad utilizzarne uno perché vi va davvero a velocizzare molto il caricamento delle pagine del vostro sito ad ogni modo di base ovviamente il vostro sito web deve essere già veloce nel caricamento quindi mi raccomando andate prima di tutto ad ottimizzare le immagini del vostro sito bene ragazzi all'interno del video vi ho spiegato innanzitutto come non dovete andare a caricare le immagini all'interno del vostro sito WordPress ma poi vi ho fatto vedere anche quelli che sono i migliori metodi che potete utilizzare per andare a caricare appunto le immagini all'interno della vostra installazione WordPress mi raccomando seguite i consigli che vi ho dato all'interno di questo video e vedrete che il vostro sito web si caricherà più velocemente naturalmente se i miei consigli vi sono tornati di aiuto lasciatemi quantomeno un ben mi piace sotto al video e mi raccomando che se non lo avete ancora fatto potete iscrivervi all'interno del nostro canale YouTube trovate naturalmente il pulsante sempre sotto al video oppure potete lasciare un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e se avete ancora dubbi o domande sul come andare ad ottimizzare le immagini all'interno del vostro sito naturalmente potete lasciarmi il vostro commento utilizzando il box che trovate qui sotto sappiate che sia io che i membri del mio team leggiamo sempre tutti i vostri commenti con piacere ovviamente e cerchiamo di rispondere sempre a tutti ovviamente ragazzi sempre tempo permettendo perché riceviamo davvero tanti e tanti commenti all'interno dei nostri video e quindi ovviamente cerchiamo sempre di fare il possibile detto questo non mi resta altro che salutarvi ovviamente grazie mille se siete arrivati a vedere la fine del video per me conta molto e ovviamente spero che il video ancora vi sia tornato di aiuto vi saluto ma naturalmente ci vediamo nel prossimo tutorial quindi ciao ragazzi e alla prossima e alla prossima